E poi aggiunge Montanari che il patriarcato esiste ed è nella cultura di questa destra. Anche questa è una bugia, è una totale bugia, ma perché andare nelle trasmissioni a fare propaganda contro il governo, contro la maggioranza, dicendo bugie? La Meloni che arriva al potere inventandosi nemici è una bugia. La Meloni è la politica dell'odio ed è completamente l'opposto, abbiamo capito chi è che fa politica dell'odio in Italia, lo abbiamo capito tutti. Il patriarcato esiste, fino qua ci stiamo, il patriarcato esiste, oggi è diminuito, non è più quello degli anni 50, 60, 70, ma c'è ancora il patriarcato, ma dire che nella cultura di questa destra è una sciocchezza. Il patriarcato non ha politica, il patriarcato non è né di destra né di sinistra né di centro, il patriarcato è una cosa trasversale, non è da incasellare il patriarcato è di destra. Questa è un'altra stupidaggine, ma è veramente grossa. E poi dice il ministero delle pari opportunità è anche un ministero della natalità. E cosa vuol dire questo? A quel punto Annalisa Terranova dice ma come si fa a dire una cosa del genere? Solo perché ci si occupa di natalità allora è maschilismo? In effetti, è che quando tu ti trovi in una trasmissione televisiva e sei invitato e hai questa persona che è invitata come te, come Montanari, che ti mette tutto sul piano della bugia, capite bene che il discorso come fa a svilupparsi, come fa ad esserci un confronto quando vedi che una persona tutto quello che dice sono delle bugie? Cioè ti confronti con le bugie? Come fai a confrontarti con le bugie? E poi arriva Annalisa Cuzzocrea di Repubblica che corre in soccorso di Montanari e dice la situazione è peggiorata. La situazione è peggiorata? Ma in che senso? Che cosa è peggiorato? C'è un enorme lavoro culturale da dover fare anche se rispetto all'anno scorso ci sono meno femminicidi e questo è legato al fatto che alcune leggi sono bipartisan. Oh mamma mia, oh mamma, avete sentito che cosa ha detto? Ma avete sentito che cosa ha detto? Non ci si può credere. Sentite, dice la situazione è peggiora ma rispetto all'anno scorso ci sono meno crimini. Ah, allora è la percezione che è diversa dalla realtà. Cioè quello che si racconta in televisione è diverso dalla realtà. Quindi si crede che ci sia un peggioramento delle cose quando in realtà c'è una diminuzione dei femminicidi. E poi dice questa diminuzione è legato ad alcune leggi che hanno fatto destra e sinistra. Come dire, non posso dire che la diminuzione è per il centro-destra, la diminuzione è anche per il centro-sinistra perché hanno fatto le leggi bipartisan. Quindi capite il modus operandi di questa giornalista? Cioè piuttosto che dire che durante il governo Meloni i femminicidi diminuiscono perché sono state fatte delle leggi, deve dire che le leggi, la Meloni, no, le hanno fatte tutte e due, centro-destra e centro-sinistra. Siamo al top del top del faziosismo e dell'ideologia. Mamma mia, che livello siamo arrivati. Pertanto capite bene che nelle trasmissioni televisive mettersi a confrontarsi con persone così faziose ideologicamente ti prendi solo il nervoso. Ecco, arrivederci a tutti e grazie.